Dopo aver conquistato il settebello di vittorie consecutive, le Panthers Roseto vanno a caccia del filotto per proseguire la striscia positiva in campionato. Nel frattempo la società ha rinforzato il roster con due innesti chirurgici, la lunga Serena Bona e la playmaker Stefania Maroglio. Coach Padovano descrive così il loro ingresso all'interno del gruppo squadra. Dal punto di vista umano sicuramente sono state accolte nel modo giusto dalle compagne, penso che per il momento sotto questo punto di vista non ci debbano essere problemi. Dal punto di vista pratico, di quello dell'inserimento in mezzo al campo, Serena Bona purtroppo ancora non è pronta, deve riprendersi da un infortunio che aveva avuto prima di arrivare qui e quindi la stiamo monitorando per non accelerare i tempi e permettergli di avere il modo di poter rientrare proprio nel momento giusto. Stefania fin da martedì è venuta ad allenarsi, si vede che è una ragazza piena di energia, sicuramente ci darà qualcosa perché vedo che l'inserimento potrebbe essere molto più veloce del previsto. Sono sicuro che ci darà una grande mano. Intanto sabato ci sarà la trasferta per la capolista del Girone B a Rovigo, partita sulla carta facile e proprio per questo da non sottovalutare. Il rischio è sempre quello di andare con un po' troppa sufficienza ad affrontare una squadra che in ogni caso non ha niente da perdere e quindi potrebbe azzeccare la partita della vita in una giornata che magari noi invece non siamo al 100%. Quindi ci potrebbero dare maggiori difficoltà di quelle che sulla carta sono evidenti. Ci stiamo preparando bene, l'intensità di questi allenamenti è stata molto alta, sono soddisfatto di come ci stiamo preparando. Penso che le ragazze ormai abbiano capito che non si può sottovalutare nessuno e spero che non ci siano problemi di concentrazione e di approccio alla partita.